Siamo stati poco cattivi, non c'è mancato un po' di riconfinzione, dobbiamo essere bravi, dobbiamo continuare a lavorare, a dover essere un quanto c'è da più della partita, una palla vacante come è stata oggi, mezza palla, mezzo di ricordo, ce l'ha fatta più. La defesa oggi è mancato, forse formata da Genova, da sei, da sette, si è finita, la domenica c'è da giocare sul campo molto difficile, i ragazzi cos'hai detto? Fine, grazie ho fatto i complimenti perché questa è una squadra che è la 95esima, forse si vuole andare a cercare di fattore, con il calco e le poche energie che gli erano rimaste, perché anche nella gestione della partita, secondo me hanno sperato molta energia, di un motivo pure, ho fatto i complimenti per questo. Grazie.